Il maestro Dario Zande Giacomo 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 Per questo motivo ringrazio e saluto il vicepresidente Claudio Salvador Eccolo qui Benvenuto Grazie Un'economia che è un fiore all'occhiello non solamente regionale ma un fiore all'occhiello nazionale Su questo noi di Banca Prealpi siamo sempre disponibili siamo sempre disponibili al vostro fianco per soddisfare quelli che sono i vostri bisogni in questi ultimi tempi abbiamo sentito parlare di riforma del credito cooperativo di wait out noi che abbiamo ricevuto dai nostri predecessori, dai nostri avi un capitale non siamo disponibili a fare di questo capitale merce di scambio è un capitale che abbiamo preservato e che deve essere a disposizione nostra e anche alle generazioni future quindi noi di Banca Prealpi saremo sempre al vostro fianco con tutto il nostro capitale, le nostre persone e tutta la nostra volontà grazie e buon proseguimento Grazie vicepresidente naturalmente con la Banca Prealpi ringraziamo anche tutti i partner che vedrete e che noterete nella campagna pubblicitaria in modo particolare Valdoca, cantina produttore di Valdobbiadene ed è il commercio fra le molte iniziative nel corso di questo momento inaugurale ce n'è una a cui teniamo particolarmente perché è diventato ormai un punto fisso all'interno del calendario delle manifestazioni delle fiere di San Gregorio c'è questo connubio che è nato con MIG, la Mostra Internazionale del Gelato di Longarone e c'è un premio, è un matrimonio tra il gelato e qui siamo nella terra del Prosecco, non poteva essere diversamente per parlarcene, per ricordare tutto quello che abbiamo fatto e quello che faremo ma soprattutto per premiare i vincitori di questa edizione c'è il presidente di Longarone Fiere, Giorgio Balzani Buongiorno a tutti, un saluto particolare alle autorità porto il saluto mio personale di Longarone Fiere della Mostra Internazionale del Gelato anche a nome dei maestri gelatieri qui presenti di Fausto Bortolot che è il presidente della fiera due eccellenze, il gelato e il Prosecco si sono messi insieme, noi dobbiamo tenere alte le nostre eccellenze anche su una possibile strada Venezia-Monaco dove i nostri prodotti vanno assolutamente valorizzati quindi grazie al comune di Valdobiadene grazie all'agriturismo La Dolza che ci ha ospitato grazie alle 30 gelaterie che hanno partecipato a questo concorso e buona fiera, grazie eh no, dobbiamo premiare adesso, dobbiamo premiare quindi volevo subito chiamare per la disponibilità lo voglio ringraziare perché stravolgiamo un po' la scaletta però vorrei chiedere anche al presidente Luca Zaglia se sarà dei nostri per questo momento perché ci sono tre premiati sono altrettanti professionisti del gelato terzo classificato, anzi terza classificata Samantha Cossu di Cittadella eccola qui al centro al centro guardiamo abbassa il nastro tutto facciamo no si spezza, non posso facciamo un passo avanti così roviniamo meno le foto ringraziamo i fotografi, i cineoperatori le testate giornalistiche che sono numerose quest'oggi secondo classificato arriva da Forno di Zoldo Mauro Cercenà io non dovrei dirlo ma dopo c'è del gelato per tutti quelli che saranno fortunati quelli che saranno fortunati non fate l'assalto primo classificato arriva da Cittadella è Pietro Zanetti volevo chiamare Massimo Carnio dove è? Massimo Carnio che voi di Valdobbiadene conoscete tutti ma adesso vi dico anche per colori quali non lo conoscono possiamo fare una consegna possiamo fare una consegna con il nostro campione del mondo perché non ha vinto i campionati mondiali di cioccolateria però è il vostro concittadino e lo dico per quelli che di Valdobbiadene non sono ha portato a casa il primo premio mondiale come miglior dessert questo signore come è andata Massimo? no no vieni vieni come è andata questa gara? beh io voglio ringraziare questo pubblico che mi ha anche seguito durante la gara e ringrazio di cuore tutti veramente facciamogli un applauso perché non è facile non è facile sembra così un campionato del mondo ma non è così no no è stata dura anche perché sono fratturato una spalla ho avuto un po' di penalità ma insomma ce l'abbiamo messa tutta e meno male che ha avuto la penalità ha vinto lo stesso premio complimenti grazie Massimo grazie allora a rappresentare la provincia di Treviso c'è quest'oggi l'assessore al turismo e la cultura Silvia Moro grazie buongiorno buongiorno a tutti sono felice di essere qui oggi e portarvi i saluti della provincia di Treviso del mio presidente ringrazio e saluto a tutte le autorità che sono intervenute qui il sindaco e tutti i consiglieri il presidente del consiglio perché se non lo dico ce l'ho proprio dietro Julio Bettenant tutti i consiglieri gli assessori provinciali che ho visto qui vedete la provincia di Treviso ancora da quando il presidente Luca Zaia era in provincia ha fatto proprio cavallo di battaglia la difesa delle tipicità del territorio dei nostri prodotti tipici dei nostri sapori delle nostre tradizioni ed è una vergogna quello che abbiamo visto a Strasburgo qualche giorno fa in cui i politici italiani hanno votato a favore dell'odio tunisino beh le nostre battaglie continueranno comunque per la difesa del territorio insieme a voi grazie ancora e buona festa a tutti Assessore poi ci vediamo perché c'è il taglio del nastro per l'inaugurazione dell'ufficio Iatte allora è stata già anticipata dal sindaco e dal vice sindaco e c'è un motivo particolare per cui è con noi questa straordinaria persona quest'oggi perché ha una storia bellissima ma prima di presentarvelo vorrei chiamare il presidente del comitato di tappa Isidoro Rebuli sapete che l'anno scorso qui a Valdobbiate e lo dico sempre per cui 3-4 che non le sanno è arrivata la tappa del Giro d'Italia c'era un comitato presieduto dal nostro Isidoro Isidoro perché abbiamo quest'ospite quest'oggi? Sì grazie buongiorno a tutti beh abbiamo quest'ospite perché l'anno scorso proprio a San Gregorio abbiamo lanciato la tappa del Giro d'Italia che arrivava a Valdobbiate il 23 maggio dopo un anno la tappa che è arrivata a Valdobbiate la dobbiamo ringraziare chiaramente anche e soprattutto la regione del Veneto con il governatore Luca Zaia che da sempre crede nel Giro d'Italia è proprio di portarlo in questo territorio il nostro sindaco ha fatto una scommessa ha dato a noi volontari di Valdobbiate di organizzare questa tappa del Giro d'Italia l'abbiamo organizzata siamo riusciti con l'aiuto di tutti i cittadini di Valdobbiate tantissimi perlomeno a ricevere un contributo per fare la tappa appunto però avere anche un avanzo per la prima volta forse abbiamo avanzato un po' di soldi quindi di soldini abbiamo deciso di devolverli questi soldini non sono tanti all'associazione Art for Sport scusi Art for Sport in italiano lo facciamo Art for Sport uguale è vero? dunque Beatrice chiaramente la diamo a lei proprio per l'associazione stessa quale testimone migliore potevamo avere voglio sentire un grande applauso per Beatrice Bio campionessa mondiale di fioretto individuale paraliptico quando ci siamo salutati prima ho detto prego 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 presidente ci avviciniamo sindaco non possiamo toglierlo su un altro possiamo fare al massimo un passo avanti ai nostri ospiti grazie quando mi sono avvicinato prima e l'ho salutata ho detto che siamo tutti orgogliosi e felici quest'oggi a Valdobbiadene perché abbiamo abbiamo la sua presenza Beatrice benvenuta innanzitutto grazie ciao a tutti vabbè sono Bebe vi ringrazio tantissimo per questo oddio cade tutto ok per questo diciamo regalo e ovviamente i fondi andranno in beneficenza perché da quando ho avuto la mia malattia io faccio scherma da sempre e ho voluto rifare tu ho voluto tornare a fare scherma eccola io è una dei nostri e ho voluto tornare a fare scherma dopo la malattia e tutto quanto per farlo suono la campare per te ah ok per farlo c'è servita un'associazione Ollus che mi permettesse di avere le protesi e la carrozzina da scherma per poterlo praticare ufficialmente diciamo e da lì abbiamo deciso di creare questa associazione Ollus che appunto permettesse di fare sport ai ragazzi amputati si chiama Art for Sport è in inglese siamo 18 ragazzi per ora ognuno fa uno sport diverso loro sono un paio dei nostri lei si chiama Margherita e che sport fai? Arti marziali lei Mena e quindi insomma abbiamo 18 ragazzi facciamo tante attività facciamo diciamo lo scopo principale è quello di dare i pezzettini tra in regoletta ai nostri ragazzi e quindi ci impegniamo per farlo e quindi è grazie a questi eventi qua grazie a tante cose che riusciamo a fare tante cose appunto e dato che ci sono periodi di 5 per 1000 quindi per qualsiasi informazione andate sul sito di artfosport.org avete capito perché è straordinaria resta qua con noi perché le campane praticamente il sindaco le ha ordinate a quest'ora proprio per te e guarda non è finita perché chiaramente un omaggio a Floreale non deve mancare non deve mancare allora approfitto di questi secondi per ricordarvi che ci sono tantissime iniziative guardate il Deplian perché in questi due giorni ci sono un sacco di iniziative questa sera ricordo la tombola di Beneficenza prima c'era uno spettacolo di Cabrego di Francofabbrica domani sera grande spettacolo pilotecnico oltre i convegni naturalmente che troverete riportati nella brucia adesso però vorrei farvi salutare e vorrei soprattutto che voi salutaste con un grande tributo il nostro presidente Luca Zaia grazie so che ve premo la pannastro ve lo leggo nel pensiero però due robe ve le devo dire intanto un grande applauso a tutti gli organizzatori qua c'è un mondo di volontari che magari qualcuno anche critica ma sono bravi perché organizzano e quindi grazie ai volontari all'amministrazione alla banda alle maggioretti insomma tutti quelli che ne approcciano la croce rossa la protezione civile dopo lunedì qualcuno mi scrive che l'ho da smette come al solito però volevo dirvi due robe siccome anche prima nel qua sulla piazza molti mi chiedono mai prosecco guardate noi abbiamo in mano un tesoro cioè questo territorio non sarebbe così se non avesse avuto gente determinata che conosce il sacrificio e che ha strappato le colline ai rovi ai roe per metterci queste piante allora noi oggi sappiamo che il prosecco vale circa mezzo miliardo di bottiglie sui mercati questa doc qui la vecchia doc produceva circa 57 milioni di bottiglie abbiamo un grande ambasciatore del Veneto della marca trevisiana oggi bere prosecco è una roba normale in giro per il mondo purtroppo sappiamo che se chiediamo i consumatori in giro per il mondo del prosecco ci dicono bollicine no? però non sanno dirci dove quindi dovremmo ancora lavorare per spiegare che il prosecco è Veneto è provincia di Treviso è Venezia e quant'altro la preoccupazione qual è? la preoccupazione è che oggi va bene e deve restare così il mercato quando si vedono i contratti in pianura la vecchia IGT che oggi ha contratti proposti di contratto per le uve sulla nuova doc della pianura a 1,30 euro il chilo il mondo si spacca a metà no? chi dice magari andasse sempre avanti così chi dice ma devo preoccuparmi io penso che il mondo dell'agricoltura debba comunque non dormire tranquillo rispetto a queste partite è fondamentale che i consorsi prendano in mano la situazione è fondamentale che si chiudano accordi di filiera è fondamentale che sui mercati da qua i prossimi anni chi dovrà comprare le nostre uve e chi dovrà comprare il nostro vino sappia con certezza quanto gli costerà guardate che sembra una banalità ma se vi mettete nelle teste di un importatore tedesco o inglese o americano lui deve sapere i suoi contratti se sono coperti oppure no deve sapere di non aver sorprese perché comunque si firma prima si vende prima del vino che non si ha e poi bisogna arrivare qua sul territorio a comprarlo cosa vi sto dicendo vi sto dicendo che è fondamentale che in questa fase ci si organizzi abbiamo in mano la più grande doc del mondo 500 milioni di bottiglie ci permettono di fare due robe una che la vogliamo fare che è conquistare il mondo con il prosecco due di farci tanto male quindi è fondamentale che si faccia squadra e che chi ha oggi in mano la tutela parlo del consorzio di OCG e del doc comunque mettano in fila questi discorsi stanno facendo un bel lavoro ma attenzione che non dobbiamo passare la guardia quanto al mondo che ci critica io penso che non ci sia un agricoltore qui che è convinto che da qua all'infinito la soluzione per coltivare il vino sia quella da continuare a pompare che sia quello di continuare con i trattamenti anticrittogamici ci sono già le prime varietà resistenti alle malattie che quindi ci fanno ben sperare rispetto al fatto di avere nel futuro prossimo un vigneto nel quale si va di meno a fare trattamenti e ovviamente sarà anche meno oneroso dal punto di vista economico però non posso accettare che si dica sulla tv a livello nazionale e internazionale che i miei viticoltori sono dei devastatori delle colline questo no non si può accettare questo quando abbiamo avuto i quattro morti a Refrontolo più di qualcuno ha andato a dire in giro agli italiani e al mondo che i morti a Refrontolo erano la colpa delle colline del Prosecco e questa è una vergogna vuol dire non rispettare la nostra gente e voglio anche ricordare ai più distratti che se c'è una frana in collina c'è dove c'è un bosco non c'è un vigneto perché chi ha un vigneto ha l'interesse di tenerlo su il vigneto vi porto io a vedere le frane dove sono nelle parti boschive dove più nessuno ci va perché comunque non conviene andare a fare il recupero questa è la verità dei nostri territori quindi Prosecco comunque dal punto di vista idrogeologico ha regimato le acque superficiali ha fatto gli scoli ha sistemato le nostre colline questo deve essere riconosciuto ai nostri agricoltori anche perché qua se ne fa tanta di fatica e in generale d'ho chiuso agli agricoltori va riconosciuta la fatica di fare prodotti di qualità noi siamo produttori di circa 350 prodotti tipici in Veneto e trovo ancora strano se non assurdo se non vergognoso che si votino provvedimenti che permettono a prodotti che vengono da paesi nei quali si usano insetticidi che da noi non si usano più da 50 anni pensate che noi siamo costretti a importare prodotti agricoli per i nostri cittadini che vengono da paesi nei quali si usa ancora il DDT il DDT in Italia non si usa più degli anni 50 perché è cancerogeno allora l'altro giorno vediamo un'altra novità 35 milioni 35 mila tonnellate di olio tunisino per dare un segnale contro l'isis ma che puttanata è sta qua l'olio tunisino arriva qua e nella migliore dell'ipotesi qualcuno lo utilizzerà per tagliare il nostro olio a livello nazionale ve lo dice uno che ha fatto l'etichettatura e la tracciabilità obbligatoria per l'olio tra l'altro questo olio che arriverà senza dazi 35 mila 35 mila tonnellate andrà ad aggiungersi alle altre 56 mila tonnellate e questo non lo si dice che già entra con benefici fiscali allora io dico se si vuole difendere veramente l'agricoltura il primo metodo è quello di fare in modo che i prodotti agricoli degli altri se li tengano a casa loro perché la nostra agricoltura è in grado di sfamare gli italiani io non aggiungo altro ce l'ho da gli amici i gelatieri loro sono bravi voi sapete quanto lavoro creano in Germania i gelatieri io dico sempre quando si parla di immigrazione io dico ah ma anche voi venite siete andati in giro per il mondo ma non a riempire le carceri non a riempire le carceri i gelatieri i gelatieri se non lo sapete che sono partiti in quel top del cuore giusto? se dice così guardate qua andate a sentire questi qua 58 zoppe del Cadore e sarà quanti abitanti? 100 abitanti 200 abitanti andate a zoppe del Cadore Caorle qua Longarone questi sono partiti non si sa neanche dove era la Germania oggi i gelatieri veneti in Germania oltre ad essere un'associazione rispettata e l'unica che era la Camera di Commercio tedesca danno lavoro a 22.000 persone in Germania non in galera questo è il discorso e 2.000 gelaterie in Germania quindi grazie ai gelatieri perché ve l'ho detto perché il 24 marzo c'è la giornata europea del gelato artigianale perché anche loro hanno qualche problema in Germania che scrivono Italian Ice gelato italiano e dopo i seturchi dirò il banco mi raccomando grazie buongiorno a tutti grazie presidente allora sindaco ci portiamo al centro del palco per il taglio del nastro e beh vieni qui tu prima di tagliare il nastro a nome dell'amministrazione comunale voglio ringraziare tutti gli espositori che quest'anno sono con noi e vi assicuro che sono tantissimi vi chiedo un applauso per loro perché il loro mestiere è difficilissimo non è facile girare sempre in continuazione in questo momento per cui grande applauso per loro e applauso a contributo del taglio del nastro all'inaugurazione ufficiale della fiera di San Gregorio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti